Oramai i 91 comuni del perimetro della cosiddetta Terra dei Fughi sono costantemente monitorati non soltanto dal basso, ma anche con occhi elettronici dal cielo. Attività affidate a un coordinamento prefettizio per istituzioni e gruppi interforze. Servono soprattutto i droni che vedono prima di essere visti, ma la parte della strumentazione più sofisticata, che non solo sui droni ma sugli aerei della Guardia di Finanza e del Bene consente di mappare in profondità il territorio, permette di avere una conoscenza reale di dove si trovano le discariche abusive e quindi prepara la strada alle bonifiche. Per i siti attenzionati dalle procure e dalle istituzioni si utilizzano anche particolari sensori multispettrali e termici montati a bordo di quest'aereo in dotazione del consorzio universitario Benecon. Nessun centro di ricerca, nessuna università in Europa ha in autonomia sia un aereo così performante che tutti i sensori e chiaramente anche il laboratorio di post-processing, di intelligenza artificiale e di machine learning. I dati sono elaborati successivamente nella sede di Bene con Alfrignano. Su 1500 km2 noi abbiamo acquisito ben oltre 5000 km2 di dati per spettrali e termici, incrociandoli riusciamo a capire quali sono quelli più inquinati. Oltre alla terra dei fuochi, il consorzio Benecon è impegnato anche in altri settori, dai beni culturali famosi a quelli meno noti e dimenticati, dal sociale all'ambiente. Insomma, occhi elettronici che volono per scoprire ciò che non si vede o si nasconde. Grazie a tutti.